sono le ore 19 in punto siamo quasi nel porto di Brindisi stavolta siamo stati a Fasano siamo tornati con il furgone e adesso siamo qua di nuovo in Puglia al porto di Brindisi notiamo con grande soddisfazione che finalmente è stato messo il cartello non so se si vede che indica che in questo porto si può imbarcare anche per l'Albania era una cosa che aspettavamo da tempo e pensavamo non succedesse più invece è successa non so se si vede ci sono i cartelli siamo contro luce forse ma c'è scritto anche Grecia Albania Costa Morena punta delle terre Turchia eccetera 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 questo è un grande passo avanti perché ogni volta che venivamo negli anni passati l'Albania non esisteva finalmente siamo riusciti anche in quest'altra grande impresa il navigatore si ci torna il dietro perché qui stiamo dirigendo in mare non so se possiamo entrare qui nel porto ma l'altra volta non ci hanno fatto entrare adesso c'è un divieto qui ma non so se sia il caso di entrare o meno il divieto riguardo il piazzale non si capisce bene come al solito in ogni caso credo che mi conviene andare avanti per vedere un attimino cosa c'è hanno cambiato tutto in questo porto di Brindisi ricordiamo che oggi è stata una giornata col caldo di Scipione il caldo che è venuto dall'Africa siamo a 38 39 gradi no no ma qui arriviamo proprio nel porto c'è la dogana nel cartello fra poco non possiamo filmare più ok alto